Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Nioh, terza run, benissimo, vediamo cosa possiamo mettere qua Ma Elisir, ma che è meglio? No, poi va a tenere di caduto, va bene, è un'altra cosa Allora, questo cosa c'ha? Però il livello 75 è tutto viola, qualsiasi cosa ci droppi? Andiamo bene Sì, sì, l'aiuto io signore, guarda come si incanta la spada Ma no signore, eh che cazzo Eh, ma insomma, ma come è più potente lei? Eh, non si fa così Eh, ma questi 3600 gradi che ha No, no, insomma Stavo per fare una bella figura di merda Eh, ma sì, ma cazzo Troppi gradi c'ha Eh, ma cazzo però Ma ha fatto le 106.000 gradi e in più mi prende anche a zero chi Beh, è una cosa incredibile, eh Ha fatto un'altra figura di merda, vabbè, ci vediamo dopo Oh, ma stato, mamma, mi ha dato un sacco di roba Abbigliamento di Yamabushi lì, che cazzo Insomma, non penso niente di buono Però insomma, sono morto per arrivare qui, lo sapete Perché la fretta non è mai consigliera Io lo dico sempre Eh, dunque Yewishitokin Oh cia boia però Riduzione di danno, riduzione di corto affinità Eh, è tanta roba Però è sempre per incidenti da fare Insomma Questa è la versione più avanzata di quello che abbiamo Io la prenderei senza nessun pensiero E poi per il resto ci guarderemo Dai, adesso piano piano facciamo tutto Allora, bisogna avere calmo Perché qui si muore E' così gioco Cosa fa lei? Ma insomma Ma è scemo proprio questo Bisogna dirglielo Cioè io perdo, lui si è precipitato proprio E lì, vabbè No Mamma mia ma Quella gente è proprio Nervosa, eh E' proprio nervosa la gente qui Ecco qua Adesso ci mettiamo a posto, eh E' che c'è qualcosa qui Ecco qua Mamma mia che gente Nervosa che c'è qui dentro Insomma Tutti i cagli vogliono fare il culo Non ce l'ho bello il culo Lasciamelo perdere Allora, vediamo di aprire Nomi, nomi stronzu Eh, insomma Chi è adesso? C'è proprio un attico Chi è che sto Iea? Ma che cazzo era? Boh Non ho mica capito io Se avete capito ditemelo Perché io non ho mica capito chi era Iea Eccolo qua Eccolo qua Uriato Bravissimo Perfettico Ma c'è ancora qualcuno? Continuo a sentire Ma non vedo nessuno Vabbè Eh, salve Ma dove esce lei? Vabbè Sente che esce a caso Vabbè Apriamo anche questa Come non puoi sapere Da questa parto lei? Eh, ma che cazzo Quindi vado di qua Salve Ma siete astrosi? Ok, scusate Ma devo un attimo Avere un po' di spazio Di manovra Eccoci qua E siamo a posto Vediamo un po' Di prendere tutto Piano piano Con calma Non abbiamo fretta Perché tanto La fretta non ci aiuta Ok, volevo andare su Perché? Intanto questo qui Lo prendiamo Ecco qua Così siamo a posto E questa è una cosa fatta Poi Quei fettentoni Che mi sparavano Che erano qua Allora Qui ci deve essere Qualcosa Da andar di sotto Adesso io non ricordo Dove sia Perché noi dobbiamo Andar di sotto Dovrebbe essere qui Vedete che Fa resistenza Ok Oh Questa poi Ok Oh mi ha preso Signoro Non è molto educato Da parte sua Sa Ed ecco qua Posto Qui apriamo Siamo a posto Abbiamo fatto anche questa E prendiamo Secondo Kodama Ah c'è anche da fischiare Qui Che palle Tanto che lui Esce Ok Secondo Kodama Ah non c'è nessuno Meglio così Poteva andare peggio Vero Allora Andiamo su Dunque Andiamo qua Proviamo andare di là Tanto è uguale Su questo punto È ugualo Sì Saliamo un attico Va perché devo finire Spallare Non è mica finito Io Che cazzo Qui non c'è più nessuno Che mi spara Ma sono di là Qui si siende E qui c'erano quelli Simpatici e carini Dal pelo bianco bianco E ne sono mai stanchi Allora vediamo un po' Un attico sciolo È che Come guidare una banana Su un centriolo Questo coso Eccoci qua Eccoci qua E questa è andata Qui ricordo vagamente Che c'era con la signorina Spacca cazzi Spacca i cazzi Dizierete Dizierete Non c'è Però me la ricordo Ma forse mi sbaglio Mi sbaglio Faccio così tanti giochi Che insomma ricordarsi tutto E qui dovrebbe essere L'ultimo Kodama Ok qui Non voglio andarci adesso Salve Kodamuccia E siamo a posto Qui Kodami Ne abbiamo fatti tutti E siamo a posto Vai Entra qua Grazie Gentile Oh stia boi Quanta roba c'è dato Mi scusi sa Oh salve signorina Ricordavo proprio lei Ma se viene magari Ma no voi Porca vacca Signorina volevo Salve signorina È arrivata È arrivata E va a fanculo però Ecco qua Oh stia boia No che mi ha sfondato il culo Oh porca vacca Che lei è lenta In realtà E niente Cosa ci posso fare Se è una troia E niente E quindi ci vediamo dopo E niente Ci risiamo Sono morto ovviamente Per arrivare qua Perché insomma È molto simpatico Questa donna Ecco qua Perfetto Dove va? Signorina Non si fa così Porca di quella flaca Ma dove cazzo Hai loccato Butto stronzo Ok Ovviamente io ho Cercato di mangiare Ma sto stronzo Non l'ha mangiato Insomma Ma porca la vacca Col gin Ok Io santo Oh porca miseria Quanto è odiosa È una cosa incredibile Più odiosa lei Eccoci qua Ce l'ho fatta Bisogna mantenere la calma Io non ce l'ho fatta E quindi Amatere la calma E l'ho preso il culo Ok Due me ne ha date Che cosa esosa E quindi adesso Cosa facciamo Dove cazzo Andiamo Qui c'è qualcosa Che non ho preso L'ho maschendo Proprio rincoglionito L'ho Che non si può dare E qui c'è la morte Ho paura Di sì Insomma Qui c'è la morte Di cui si siende Eh vabbè Si si va Di qua Si si ci si va Posto Così lo può prendere Però Lo sa Allora Fatta il piazza pulito Ovviamente Quindi possiamo andare Tranquillamente A parte qua Che ovviamente Qui non sono passato Eccoci qua Posto E saliamo E proseguiamo Andiamo dove dobbiamo andare Che è il finale Che è di qua Dobbiamo scendere La scala Che è questa E andare avanti Speriamo bene Gli non faccio Prendere di nuovo Da palico Perché sennò Faccio caccate E dopo E dopo è così Allora Qui per me C'è ancora Uno di quelli Gli ogni stronzoli Ah c'è lui Ma insomma Io vado qua Poi vedete Se vuoi venire Aveva piacere Insomma Certo che sei proprio Coglione Oh casso Chi era il coglione Porca miserica Dove vai Locke qui Sto qui ragazzi Che non voglio fare Figure di bene Fate già troppe Ok Così mi va bene Ma signore Non si fa così Eh no Devo cercare tutto Il toro Scatenato Ciò Si è scatenato Il toro Qui Eccoci qua E siamo A posto Io mi dico Da uno stronzu Qua Però Non c'è Meglio così E la candela Dello vocatorio Che abbiamo usato Una qualche episodio fa Insomma Si Chi è Salve Oh ma Ancora vivo lei Cominciano a essere forti Da che parti Ovviamente Non so da che parte andare Ok Qua non si va Qua Ecco qui Questo è il finale Adesso vediamo Se c'è qualcos'altro Salve Lei è Beh è una maschera Che mi serve E' quella che ispetta fuoco Dovrebbe essere Perfetto Direi che abbiamo liberato tutto Possiamo entrare E vedere cosa succede Qui dovrebbero arrivare Ninja E infatti Eh no Aspetta un attico Porca vacca Eh insomma Mi hanno messo Da più in culo Ma questo che cazzo ha fatto Si è fermato così No scusate Alla velocità Non mi voglio far batte Da due stronzi Dai su Ok A velocità Proprio Ci detti a voi Non vedo un cazzo Eh vabbè Se voi proprio volete Continuare a saltare E quindi siamo a posto Vediamo tutte Salve Lei non mi è piaciuto Lo sa Lei è proprio stronzo Anche a lei A velocità Non mi vorrà Amica a battere A quanto pare Si Si è anche riuscito No no Adesso Adesso Ragiono meglio Dai E niente Ha vinto lui Ok Se ti spacco il corno Ce l'ho fatta Spacca di corno Oh che spacca di culo Quanto pare A me era l'ultimo Che cazzo c'ho io Pensiamoci fosse chissà chi Ok Saperle tiravo la bomba Facciamo finito Insomma Ok Non c'è più niente Da prendere Qua C'è più cazzo Ce l'abbiamo fatta Non con poca fatica Devo metterlo Però ce l'abbiamo faccianata Va Andiamo Avevo ancora Due bombe più potenti Che sono lente C'è più cazzo 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 Ebbè Abbiamo Aya Komori Adesso ci andiamo a vedere Subito Se questo Aya Komori È al Mi sa di sì Però non ne sono sicuro Ci guardo Subito Ci dicevo no? Evidentemente no C'è n'isciuto Ok Atagatis Sarà questa Sì E l'altra è Armatura di Kingo C'è poi lo Kingo Allora vediamo un po' Santuario Riveliamo Non possiamo Perché persi Di abilità Aya Questo qua Ricopro la vita Da colpo finale Non è male Attacco da dietro Non è male Contro paralisi In gizzo Illimitato Danno agilità Oh ragazzi Questo serve E vuole 15 Di spirito Quanto abbiamo noi? 13 Due livelli Non sono facili Però lo voglio prendere Lo voglio prendere Cosa andiamo a perdere noi? Andiamo a perdere Reduzione schivata Caduti equipaggiamenti Danno d'attacco rapido Insomma Fortuna 40 Perdiamo un po' Però bonus Danno agilità Quando entrerà in azione Compenserà la mancanza Che abbiamo di là Va bene E niente Andiamo avanti Cosa posso fare di diverso Adesso Se no Andiamo avanti Guardiamoci La cazzi Allora agilità Allora agilità Grazie per la visione 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 Salve, lei è veloce sa Oh c'è vai mi ha spaccato il culo Eh Va bene Io direi che ragazzi Che ci possiamo anche salutare qui Per questo video è tutto Io vi vedo come al solito Anche commento Anche commento se mi piace a serie E vi farmi sapere cosa ne pensate Per la visione Salute a Siva Ciao ciao